Amici, ero sul punto di costruire una base segreta sott'acqua che vedrete in un prossimo episodio e mentre la costruivo, comunque facevo i preparativi, pensavo ma io non ho abbastanza legno e infatti sono andato a controllare e non avevo assolutamente legno quindi mi è venuta la brillante e poco geniale idea di fare una farm di legno semi-automatica quindi in questo episodio la andremo a costruire e soprattutto vi farò vedere l'inizio di quella che sarà la nostra base segreta sott'acqua assurda, incredibile, bellissima, ciao, iniziamo quindi signori, siamo spawnati direttamente nella valle delle farm che per chi non la conoscesse, dai, è impossibile, non potete non conoscere la valle delle farm prima di fare il tutto vado a dormire e vi volevo far vedere un secondino veloce qual era il mio progetto di base segreta e poi, e poi c'è un ragno, oh mio dio che fastidio i ragni, che fastidio, ti lascerò lì? no, ok, ok, ti devo uccidere, sono costretto ad ucciderti, ok, ragnato, ok, ciao faccio vedere un attimino cosa pensavo, cosa avevo in mente per base segreta e poi ce ne torniamo a fare la farm di legno allora qui ho scavato tutto, sono quattro stanze in ogni, ovviamente dovrò cambiare sia il pavimento che il soffitto e tutto ma lo faremo in un prossimo video e qua avevo iniziato a mettere il legno e poi mi è venuto in mente oh non ho più legno! e quindi facciamo la farm di legno, automatica, vabbè, chiamatela come volete e quindi niente, questa è sostanzialmente, la dovrò migliorare qua ci voglio mettere tutto il vetro, per salire ovviamente ci metterò l'acqua ma vabbè, lo sapete meglio di me ora ci mangiamo un po' di manzettino cotto qua le pecore erano state tosate appunto perché mi serviva la lana e andiamo a costruirci la farm di legno, automatica l'avrò detto 56 volte, spero si sia capito allora per chi la volesse riprodurre nel proprio mondo mio dio c'è un cavallo nero, è bellissimo, lo voglio catturare per chi la volesse riprodurre serve allora, una tramoggia, un observer, osservatore in italiano torcia di pietra rossa, 4 repeater, un bel po' di pietra rossa ciottoli non servono il pistone, la leva e un distributore, un dispenser ovviamente il buon meal e il buon e vecchio arboscello di quercia ora iniziamo a costruirla non ci voglio mettere più di tanto voglio iniziare a farla e poi, magari in caso si avanza tempo facciamo anche qualcos'altro di interessante dunque, piazzo il mio blocco da costruzione che ho deciso di utilizzare questo qui mi sembra carino in caso lo sostituirà col quarzo ok, quindi ho messo il blocco da costruzione le due torce di redstone e sti tre cosi di redstone e è partito tipo un bordello generale eh, pecorella, sto cercando di costruire oh, ma ogni volta che costruisco mi vengono a interrompere comunque è partito sto bordello generale però se noi dovessimo mettere il dispenser con sopra oddio, si era buggato una leva il tutto si blocca ovviamente dovrete mettere i quattro pistoni che appunto spingeranno il legno ma vabbè, lo sapete meglio di me però la parte che appunto è importantissima da fare è mettere tre blocchi qua sopra uno qui spaccate ovviamente questi blocchi qui li potete anche tenere ma è poco estetico e appunto lasciamo un blocco lì sopra e voi direte a cosa servirà mai un blocco sospeso in aria totalmente a caso? perché una volta messi gli alberi verranno solo spinti i trocchi e non cresceranno le foglie tipo questi qua ci sarà solo il tronco quindi quel blocco fidatevi che è fondamentale ora io mi vorrei riprendere quella pietra ma mi sa che non la prenderò mai ora a livello del primo blocco dell'ultimo blocco perdon mettiamo il nostro ben amato osservatore che tutto osserva e tutto sa e tra l'altro se notate bene sembra una faccina cioè è bellissima questa cosa cioè l'observer è chiaramente una faccina non è che sembra è una faccina ed è bellissimo ora ho costruito un tre blocchi per tre quindi tre per tre qua in parte all'observer nella parte dietro quindi opposta alla faccina sulla nuca e sostanzialmente dovrete mettere un coso di redstone altri due sul lato più esterno e tre di questi come si chiamano come si chiamano repeater in pietra rossa li mettete in questa maniera quindi non è troppo difficile non so stato neanche troppo a spiegartelo a spiegarmelo però per farli funzionare dovrete andare alla base e inserire ora ve lo dico subito ora sostanzialmente nella parte dietro dei pistoni proprio quella dietro dietro ce n'è solo una di dietro ma vabbè avete capito mettete la redstone in questo modo ovvero fate tutto in circuito e mettete l'ultimo repeater dei quattro che ci servivano poi bisogna collegare il tutto quindi vi allungate di quattro ma ve lo faccio vedere dall'alto che è meglio vi allungate di qua di quattro sempre di qua vi spostate di uno e unite il tutto e ora appunto unite il tutto con la buona e cara redstone ora una volta sostanzialmente messo il bom meal nel distributore e un hopper qui attaccato al distributore prendiamo i nostri bei amati bei amati sapling li mettiamo qui facciamo partire l'hopper e vedete che appunto il tutto funziona ora vabbè c'è da aspettare che invii tutto qua consuma una quantità incredibile di bom meal ma vedete che con un po' un po' di foglie di troppo vi farà no no fermo 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 ma appunto vedete che funziona e vi fa i vostri alberelli ora c'è qualche foglionina di troppo bisogna mettere tra l'altro i sapling quindi diciamo semi automatica però diciamo che è ottima quindi la nostra farm è stata fatta non so quanto vi avrò fatto vedere magari ve l'ho fatta alla veloce perché ora volevo fare anche altro per in conclusione dell'episodio nella parte finale però comunque consuma un botto di bom meal quindi vi invito a fare prima una farm di bom meal e poi la farm di legno fatto sta che ora abbiamo il legno per la nostra base segreta che farò in un prossimo episodio qui tra l'altro sono fortunatissimo perché c'è lo spawner di scheletri che è letteralmente attaccato alla valle delle farm e quindi delirio totale signori spacchiamo tutto uccidiamo tutti i nostri scheletri vediamo qui cosa c'è un bel po' di bom meal perfetto ora volevo prendere un attimino questo ora lo volevo trasformare un attimino tutto in bom meal guardate che bello guardate quanto ne ho sono contentissimo ne ho un cifro e quindi perfetto mettiamo tutto qua dentro quello che non ci serve non ci serve neanche tu hai capito piccolo scheletrino ok e sostanzialmente signori questa era la farm di legno ora vado a mettere lì dentro il bom meal ma ovviamente non lo utilizzo spero che anche qualcuno di voi la possa riprodurre questa vabbè è un progetto mai andato a termine se voi avete capito di cosa sto parlando scrivetemelo ne gommande inseriamo tutto il buon mealo perfetto ci sta tutto a pennello fine e questa è ora mi dovrò mettere a farmare per la nostra base segreta che volendo possiamo anche iniziarla adesso perché qui manca un pezzo di terra sono abbastanza triggerato quindi a me la terra boom pezzo di terra messo tra l'altro continuate a scrivermi nei commenti idee su che farm o su che cosa fare mi avete detto quello di ferro ma si sono andato a vederla ma ho scoperto che serve un botto di roba tipo i villager le robe particolari quindi l'andrò a fare più avanti e intanto stack che ci prendiamo un botto di grano oh yeah baby oh yeah cioè anche sta farm delirium mi avete detto di mettere degli opera alla fine di questa farm si volendo lo potrei fare ma sinceramente adesso non c'ho molta voglia quindi ripiantiamo tutti i semini ah tra l'altro ragazzi voi non sapete a parte quelli nel mio server discord sempre il link in descrizione per chi volesse entrare ci si diverte e non poco ho scaricato minecraft per il pc quindi la mia idea era sul pc ci farò tipo delle mod o delle robe particolari delle mappe particolari mentre sulla play continuerò la mia serie vanilla classica perché ormai l'ho iniziata qui e sinceramente di ricominciarla non mi andrebbe dato che questa è la mia serie preferita ora dato che sono perfettino metto via tutto andiamo a incantarci l'ascia che l'ascia fare che se ci va bene per come è andato bene il piccone che cioè guardate fortuna 2 efficienza 3 delirio e anche la canna da pesca non è da sottovalutare ho trovato il delirio quindi se siamo fortunati anche con l'ascia io sono molto contento e questo possiamo considerarlo il fine episodio più bello della storia quindi stick alla mano diamanti alla mano che tra l'altro ne abbiamo uno stack e quasi mezzo quindi non è da sottovalutare come cosa potrei farmi l'armatura ma al momento sono abbastanza tirchio rimettiamo via i diamantozzi ci prendiamo i lapislozzi e andiamo a incantozzi si dice così giusto? giusto che si dice così? quindi mettiamo già l'ascia nel nostro set di armi perché con quest'ascia farmerò un botto di legno e mettiamo qui il tutto vediamo cosa ci capita allora flagello degli artropodi ok tocco di velluto che è silk touch che ci potrebbe stare però sull'ascia non lo so e indistruttibilità 3 cosa faccio? tra l'altro ho anche un libro con efficienza quasi quasi mi prendo indistruttibilità perché alla fine tocco di velluto che è silk touch che è quello che ti fa prendere le cose così come sono mi sa che non serve con l'ascia quindi io mi prendo indistruttibilità e magari ci do qualcos'altro no va bene così però mi voglio mettere anche efficienza quindi andiamo a prenderci il libro tra l'altro questo che libro è? così per curiosità vediamo infinito uno che ci sta ci sta a metterlo sull'arco però per ora che tra l'altro dovremmo anche è anche questo fiamma e colpo multiplo mi sa che me lo metto sull'arco ci prendiamo efficienza e lo andiamo a mettere anzi signori facciamo una cosa prendiamoci tutto anche fiamma ci craftiamo un arco quanto sarebbe bello un arco di diamante quello lì ricordiamo che ha indistruttibilità e volendo possiamo tenere questo a meno che in quest'arco che sto per andare a incantare non troviamo qualcosa allora indistruttibilità uno impatto uno e infinito uno allora infinito ce l'ho volendo però impatto uno non so cosa sia vado a cercare che cos'è impatto uno allora per il momento metto infinito però c'è il libro dai mettiamo impatto uno vediamo se ci esce qualcosa no ok però voglio andare a fondere il tutto quindi fondiamo e poi magari si può anche concludere l'episodio tra l'altro se l'episodio di ieri non è uscito è perché youtube non mi ha fatto caricare i video ora spero che d'ora in poi me li faccia caricare ma sinceramente se non me li facesse caricare mi arrabbierei e non poco indistruttibilità 3 ed efficienza 2 ok e la chiamiamo palesemente palesemente j-ax palesemente ok quindi ci costruiamo la nostra j-ax yeah signori yeah cioè guardate quant'è figa j-ax indistruttibilità 3 ed efficienza 2 e ora andiamo a mischiare gli archi li mischiamo così si fa un impatto indistruttibilità perfetto e poi ci metto pure fiamma e colpo multiplo cioè guardate quanto è forte indistruttibilità fiamma e impatto ok andiamo a creare il tutto perfetto e anche l'archega ce lo siamo fatto quindi signori mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni video spero che questo video vi sia piaciuto sinceramente non so quanto sia durato però abbiamo fatto cose interessanti abbiamo fatto progressi nel prossimo episodio ci costruiremo il bunker segreto che è già il delirio consigliatemi nei commenti cosa aggiungere cosa avete in mente come fare il passaggio segreto che voi avete idee sempre belle io vi ringrazio per la visione vi do appuntamento domani alla solita ora ovvero alle 2 45 con un nuovo video ciao Jax signori Jax chai chai Grazie a tutti.